Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Fino al 15 novembre è chiusa l'entrata di Ginestra Fiorentina. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti. Ci sono poi rallentamenti per materiali dispersi in direzione mare tra Empoli Ovest e Santa Croce sull'Arno. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Buon versi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!